In questo video vediamo le 5 migliori macchine del caffè espresso in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Gaggia. Versatile ed ergonomica, con dettagli in acciaio e inox e un'interfaccia estremamente semplice da utilizzare. Queste macchine manuali ti permettono di rivivere il rituale tradizionale del barista a casa tua e sentirti protagonista del tuo espresso. Ottenere un espresso eccezionale richiederà un po' di pratica, ma poi sarai sicuramente orgoglioso del risultato. Potrai anche preparare cremosi cappuccini grazie al pannarello, oppure erogare acqua calda per tisane e tè. Avrai così, a casa, il tuo personale angolo bar. Il prezzo è di 92 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo De Longhi. Con questa macchina puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita. È dotata di un portafiltro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde. Con una sola manopola puoi fare tutto, accendere e spegnere, preparare espresso e cappuccino, e pressione a 15 bar. La macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo. Il serbatoio d'acqua con capacità di un litro estraibile per facilitare la pulizia. Il prezzo è di 120 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Cecotec. Con la sua tecnologia questa macchina espresso con pompa a pressione da 20 bar prepara in pochi secondi qualsiasi tipo di caffè con la migliore crema e il massimo aroma, creando un meraviglioso equilibrio. Dispone di un pannello di controllo altamente intuitivo, veloce e facile da usare. Premendo semplicemente il pulsante relativo al tipo di caffè, latte caldo o acqua per infusi, la caffettiera farà il resto in automatico con un risultato perfetto. Il sistema Custom Coffee ti consente di impostare facilmente la quantità di caffè, latte o schiuma che desideri in ogni bevanda. Include un serbatoio del latte full milk da mezzo litro per preparare comodamente cappuccino, latte o latte caldo. È rimovibile per poterlo conservare in frigorifero e mantenere il latte in buone condizioni. Imposta la quantità di crema o schiuma che desideri con la leva su un lato. Il suo sistema di riscaldamento termoblock riesce a riscaldare l'acqua velocemente in modo omogeneo, ottenendo in pochi secondi caffè perfetti. Il suo serbatoio dell'acqua ha una capacità di 1,4 litri in modo da non dover aggiungere, continuamente acqua ed è facilmente rimovibile. Prepara uno o due caffè contemporaneamente grazie al suo braccio a doppia uscita. Il vassoio è regolabile in altezza per tazze più grandi o più piccole, l'erogazione del caffè è adattata al tipo di caffè e tazza per un miglior risultato. Il prezzo è di 134 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo Klarstein. Lasciati convincere da questa macchina del caffè Arabica Comfort, prepara un delizioso espresso, cappuccino o latte macchiato con il semplice tocco di un pulsante. Grazie all'ugello per schiuma in acciaio e inox a 90 gradi e al serbatoio estraibile della macchinetta, puoi regolare individualmente la produzione di schiuma. Anche pulire il portafiltro sulle macchine da caffè elettriche è un gioco da ragazzi grazie al serbatoio dell'acqua estraibile da 1,8 litri. Il prezzo è di 204 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Kaffitali System. Grazie al sistema di preinfusione e al sistema di doppia pressione al montalatto integrato, questa macchina da caffè offre un risultato in tazza sempre ottimale. L'esclusivo sistema di riconoscimento permette di identificare la capsula inserita e selezione in automatico. Il miglior metodo di estrazione per ricreare a casa tua, ogni volta che vuoi, un'esperienza di caffè mai provata prima. La macchina si accende rapidamente e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo riducendo il consumo di energia. Per salvaguardare al massimo il gusto della bevanda erogate, la macchina offre una pratica funzione di pulizia. Inoltre è dotata di un avanzato programma che verifica quanta acqua viene utilizzata per l'erogazione dei prodotti, in modo da dare indicazioni su quando è opportuno effettuare un ciclo di decalcificazione. Il prezzo è di 264 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.